vai allora raccontaci che ti succede era continuo che schiste passi ho resumé ho resumé giusti la conseguenza di tutto ciò che è successo fino ad oggi allora ho fatto dei temi per cercare di essere sintetica la salute molto rapidamente in tutta la mia vita diverse ferite operazioni genu, chevi, problemi ortopedici operazioni ginocchio caviglia problemi ortopedici e dernièrement l'année dernière j'ai eu un ablation de l'utérus avec quelques complications qui s'est bien passé ma il y a une grosse prise de poids e des conseq en suite au traitement hormonal et le fait de ne rien pouvoir faire pendant plusieurs mois c'est un souci aujourd'hui L'anno scorso un'ablazione a livello dell'utero, ci sono state delle complicazioni, comunque tutto è andato bene, ma ci sono state delle conseguenze a livello ormonale, preso peso e non ho potuto fare niente per diversi mesi. E in questo che è sempre attuale, problemi di pelle, ma è ancora peggio con questo trattamento, problemi di pelle dall'adolescenza che hanno seguito un peggioramento durante questi trattamenti? I polmoni sono da sorvegliare durante tutta la mia vita, ho un problema genetico da parte di mio padre. E c'è un tic, che ho fatto io penso per la 20enne, un adulto, dove mi raccogliano i capelli, i capelli, i capelli, i capelli, i capelli. C'è un tic. Ma c'è ancora di ciò, soprattutto quando sono inoccupato, o in voiture, in bouchon, o che stresse un po', c'è questo tic là e il me sembra che c'è stata suite a una visita in un museo dove ho visto una mamma e io ero impressionnata di vedere che avevano ancora dei capelli, 2000 anni dopo. E non ne so perché, ma c'è stato un trucco e ho cominciato a me dire che i capelli era qualcosa che poteva perdurare a traverso gli altri. E allora non si può cercare di comprendere, ma oggi c'è questo. Ho un tic da più o meno quando ho vent'anni che riguarda lo strapparmi i capelli e le sopracciglia nei momenti di sovrappensiero, quando magari sto guidando e sono negli imbottigliamenti e credo abbia avuto inizio nel momento in cui ho visto una mummia in un museo e aveva ancora i capelli e da lì è partita questa sorta di tic che mi ha fatto pensare e dal fatto che i capelli sono qualcosa che può durare nel tempo, anche ai 2000 anni. Voilà, on va passare alla suite. Au niveau emozionale, souvent della tristesse, che rimonte in maniera brutale, che può partire così vite, e un'anestesia emozionale con le persone, ho sentito dire, quasi sempre. Per quanto riguarda le emozioni, una tristezza che può arrivare in maniera imminente e una sorta di anestesia emozionale per quanto riguarda le persone che mi circondano. E au niveau travail, j'ai l'impression d'être, enfin, dans quelque chose qui me plait beaucoup, j'ai du temps a trouver ma voie, e j'ai eu beaucoup de boulot qui m'ont donné à manger, mais qui m'ont pas épanoui, e j'ai l'impression d'avoir aussi mis beaucoup d'énergie dans ces métiers, et aujourd'hui l'énergie j'en ai besoin, et j'en ai plus. Per quanto riguarda la vita professionale, in questo momento, finalmente, ho trovato qualcosa che mi piace. Ho messo tanto tempo ad arrivare fino a questo punto, e ho fatto nella vita diversi lavori che mi hanno portato via tanta energia, e in questo momento avrei bisogno d'energia e non ne ho più. Voilà, j'ai plus trop de jus. Et la vie sentimentale, beh, il n'y en a pas, comme ça c'est fait, hop, disons. Vita sentimentale, beh, non ce n'è, questo è fatto, seguite. Voilà. Skimsoul, c'est mon gros caractère, qui est la conséquence des choses que j'ai dû traverser, comme tout le monde, mais j'ai un gros gros caractère. Quello che mi serve è il mio carattere, che è la conseguenza di tutto ciò che ho vissuto finora, ma è appunto è un gran forte carattere. E poi, sinon, d'un point de vue spirituel, je me suis cherchée, du coup, en cherchant ma voile. Je suis passée par toutes les fases classiques de recherche sur soi, les bouquins, les thérapies. J'ai un peu tout essayé, mais rien de manière assidue, puisque rien ne me parlait profondément. Quanto riguarda la vita spirituale, ho cercato sempre la mia via, ho letto un po' di tutto, libri, corsi, ma nulla mi ha preso veramente, nulla mi ha mai parlato veramente. J'ai fait des rencontres un peu étranges, mais bon, voilà, ça reste des sujets en détail. J'ai fait des rencontres particuliers, mais restent des sujets particuliers. Il y a quand même un truc qui est actuel. J'habite dans cette vieille maison depuis 2020 j'ai eu l'impression d'avoir un gros coup d'arrêt au niveau énergétique, j'avais besoin de me reposer intensément. Ça continue encore maintenant, j'ai dit j'ai plus tellement d'énergie. Je suis venu à vivre dans cette vieille maison depuis 2020. J'ai eu l'impression d'un grand stop à niveau énergétique et j'ai besoin de reposer de manière constante, donc j'ai besoin d'énergie. Et du coup, j'ai quand même des rêves un peu bizarres depuis un moment ici. J'ai l'impression de visiter de manière semi-consciente des vies parallèles où je suis dedans. Alors, c'est à des échelles de temps un peu contemporaines. Alors, c'est des vies qui peuvent être tout à fait classiques, mais souvent, ce sont des vies où il y a une traque, un danger et souvent une agression sexuelle, un viol, voire un meurtre. Je fais, dès que je suis ici, des rêves particulières qui concernent des vies, probablement des vies parallèles, qui peuvent aussi être actuelles ou moins. Et dans la plupart des rêves, je vis des choses comme des rêves et des violences sessuelles. Voilà, donc du coup, je fais tout pour être... Je fais tout pour m'en sortir, mais j'ai l'impression de plonger un peu et de déclencher des mauvaises habitudes et d'avoir aucune autodiscipline, de ne pas pouvoir prendre soin de moi alors que j'en aurais envie. Je fais tout pour prendre soin de moi, je fais de avoir des bonnes habitudes, mais je n'ai pas un bon autocontrollo et je n'ai pas de constance dans ces bonnes habitudes. Voilà. Parfait. Cominciamo subito. Chiudi gli occhi. On commence tout de suite, ferme les yeux. Li riaprirai à fine sessione. Tu vas rouvrir les yeux que à la fin de la sessione. Maintenant, il faut juste que tu m'écoutes. Je te explique ce qu'on va faire et comment on va faire cette sessione. Pour cette sessione, tu dois me donner des réponses courtes. Rispostes veloci. Rapides. Il faut que tes réponses soient instinctives. Il faut que tu ne réfléchisses pas. Si je vois que tu penses à tes réponses, je vais changer de question. Et toi, tout de suite, tu dois changer de réponse. Et le reste, je ne l'explique pas dans la session. Mais avant de rentrer dans la session, on va faire une explication. Et pendant qu'on fait l'exercice, toi, tu te détends. Pour cet exercice, tu dois aller dans un rêve où il y a quelqu'un qui t'agresse. Quand tu es là, tu peux me le dire. Alors, dis-moi où tu te trouves-tu ? Je suis dans un salon. Je suis dans un salon dans une sorte de vieille maison. Parla un moment, pardon. Parla un moment, parla un moment avec les mains, qui lui donne le micro. Qu'est-ce qu'il a dit ? Francesca. Qu'est-ce qu'il a dit ? 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 Tu dois parler avec tes mains sur le micro. Sur le micro ? Comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Comme je l'avais déjà dit, pendant cet exercice, tu dois aller dans un rêve où il y a l'agression. Quand tu te trouves là, tu peux me le dire. J'ai cette vision du salon avec un homme. J'ai cette vision du salon avec un homme. Ok. Reconnais-tu des réponses très courtes et directes à la question que je pose. C'est un endroit où tu te trouves ? C'est grand ou petit ? C'est un endroit où tu te trouves ? C'est grand ou petit ? C'est un endroit où tu te trouves ? C'est grand ou petit ? C'est freddo ou caldo ? Ça fait froid ou chaud ? Il fait bon ? C'est plutôt chaud ? Si, c'est bien. C'est plutôt caldo. La réponse est caldo. La réponse est chaud. C'est un exercice pour entrer dans l'hypnose. Donc, il n'est pas besoin de savoir si c'est caldo ou freddo. A me ne me frega rien. C'est simplement habitué à répondre instinctivement. C'est juste un exercice pour t'aider à entrer dans l'hypnose. Ça ne m'interesse pas vraiment si ça fait chaud ou froid, mais c'est juste pour te reintroduire à l'hypnose. Si je te donne deux réponses entre lesquels tu dois choisir, tu dois juste choisir une parmi les deux. Bien. Je dois vérifier quels sont tes canaux meilleurs. Donc, continuons. Moi, je veux vérifier quels sont tes canaux meilleurs. Du coup, on continue. Bien. Questa personne, davanti à te, est un homme ou non ? Non me ricordo ce qu'elle dit. Un homme. Ok. Est-ce plus haut ou plus basse de toi ? Cette personne qui est en face de toi, est-ce plus grande ou petite que toi ? Plus grande, plus alto. Est-ce plus jeune ou plus vieux que toi ? Est-ce plus jeune ou plus vieux que toi ? Plus vieux. È vesti d'une manière casual o elegante ? Comment il est habillé ? C'est plutôt casual ou élégant ? Casual. Casual. È magro of grosso. Il est mince of gros ? Ou gross. Comment se l'appelle ? Comment se l'appelle ? Quelle qui est l' backwards ? Dimmi il nome che ti arriva in mente e tu puoi me donna il nome che arriva in mente Robert Perfetto E di gli quanti anni ha? Demande lui son âge 51 51 Hai capelli? Ha filo di cheveu? Non Ha la barba? Ha ti lombardo? Non, mal rasé Tagliata male Lo vedi con un aspetto transatado? Lo vedi con un aspect un peu de clochard Si Ok Intanto andiamo avanti in questo sogno, vediamo che succede E mi racconti E tu mi racconti Ero nella stanza e cercavo di scappare Parla al presente Sei nella stanza Che succede? Che succede? Che succede? Quale minacce ti arriva nel mente? Che il genere di minacce ti arriva nel mente? Che il è più forte che mi e che il è un po' fou e che se il si lascia sarà incontrollabile Che è più forte di me è un po' pazzo e che si si lascia andare sarà incontrollabile Mmm Bene Quanto mi piacciono queste sessioni Sei già molto questo tipo di sessioni E quindi che succede? Continua? E du coup, che succede? Continua? Io cerco la porta di uscita, quindi scappo, esco e c'è come una foresta molto bosco diciamo Continua Continua? Non è sportivo, quindi non riesce a seguirmi, quindi riesco a scappare Quindi ti salvi, giusto? Du coup, tutto è solo, c'è ça? Oui Ok, e quindi il sogno come finisce? E poi il sogno come finisce? Per me è finito, non vedo più niente Ma poi per me è finito, non vedo più niente Ok, hai avuto paura durante il sogno? Hai avuto paura durante il sogno? Quando sono nella stanza con lui sento una paura che sale e una sensazione di pericolo che sale Benissimo, adesso andiamo in un altro sogno dove ti aggrediscono sessualmente Sei in un posto aperto o chiuso? Tu ti trovi in un posto aperto o fermo? 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 E una casa Con chi sei? Te e con chi? Con una migliore amica e siamo giovani, abbiamo circa 16 anni. Continua, che succede? E continua, che succede? Siamo in questa vecchia casa dove ci sono tante piccole cose carine. Sei chi che abita là? Un gangster. Ma è la casa di un gangster. Ok, quindi vai al dunque, vai al momento dell'aggression. Du coup, tu puoi andare al momento dell'aggression. Che succede? Qu'è ce che si passa? En fait, non la visualisio, non la visualisio, non la visualisio. Non la visualisio, non la visualisio, non la visualisio. Non la visualisio, non la visualisio, non la visualisio come se fossero un film dall'estero, dal di fuori. Va bene, dimmi che succede. Ça va, dimmi che si passa. Je vois le due jeune fille sortir dans la rue. Elles sont brunes. Elles sont très amochées, violentées, blessées, maltratées. Vedo le due ragazze scappare nella strada. Ellos sono molto... Si vede che si sono state maltrattate e aggredite. Già l'aggressione è venuta. L'aggressione è già arrivée. Elle a eu lieu e elles sont sorties. Ma après, je vois le père d'une des deux jeunes filles qui explique qu'une des deux est décédée suite à l'aggression. L'aggressione ha già avuto luogo e loro sono scappate. Una cosa nera, giusto? C'è una cosa noire che t'aggressa? C'è pa' d'imagine. Non, non, immagine. Al mio 3, sì, qui hai l'immagine. A mon 3, tu reçois l'image. Anche dall'esterno, se vuoi. Anche dall'esterno, se vuoi. Guarda, è facile. Regarde, è facile. Magique. Un, due, tre. Il y a un gangster che ci attrape. Il y a dei copi a lui. Menace da un cotto per s'amuser con noi. C'è il gangster che ci acchiappa, ci minaccia con un coltello. e ci sono dei compagni suoi per divertirsi con noi. Ok, quindi ti violenta sessualmente? Est-ce que il t'aggressa, il te viola? Je ne vois pas la scène, on suppose que, mais je ne vois pas. Non vedo la scena, lo suppongo, ma non lo vedo. Non, tu, al mio 3, vai alla scena. A mon 3, tu dois aller alla scène. Se ti violenta, vai lì. S'il te viola, tu dois aller là. Un, due, tre. Ti violenta? Est-ce que il te viola? Lui, il s'amuse plutôt a impressionner, e c'est plutôt ses copains qui agissent. Lui, si diverte piuttosto a impressionare, ce sono piuttosto i suoi compagni che agiscono. Ti violentano o no? Les copains, tu viola? J'ai vu une scène. Ho visto une scène. Oh, senti, facciamo così. Non voglio che facciamo molta resistenza, perché è lì che dobbiamo lavorare. Quindi, facciamo prima una pulizia emozionale. Allora, on fait comme ça. Je veux pas que tu puisses trop de resistence, parce qu'il faut qu'on travaille. e, du coup, on va faire un nettoyage emozionale. Dimmi, in quale parte del corpo senti paura durante la violenza? Dis-moi, dans quelle partie de ton corps tu ressens la peur pendant la violence, l'agression? La gorge et la poitrine. La gorge et la poitrine. Perfetto. E di che colore è questa paura? C'est de quelle couleur cette peur? J'ai vu plusieurs choses. J'ai vu d'orange et du bleu. Ho visto diverse cose, dell'arancione et du bleu. Perfetto. Adesso prendi tutta questa energia colorata di paura, la estrai dal corpo e la butti via per sempre per un portale. Maintenant, tu prends cette energia colorata di paura, tu la sors de ton corps e tu la jettes dehors de ton corps pour toujours. Facile. Perfetto. Quando l'ai fatto e la paura disparita di me. C'est facile. Parfait. Quand c'est fait e la paura è disparue, tu peux me le dire. Je ne sens plus la crispation dans ma gorge. Encore un petit peu. Non sento più nella gola e ancora un po' nel petto. Butta, butta tutto. Tu dois tout jetter. Ça s'accroche comme un crabe ou une araignée de mer sur mes épaules qui s'est pris sur ma poitrine. si aggancia come un grand che ho come un ragno di mare sulle mie spalle e sul mio petto. Si, ma tu la devi prendere. Cosa la paura? C'est la peur qui fait ça? C'est la peur. Ok. Prendi questa paura e buttala via. Prendi cette peur e jette là ailleurs. Uno, uno, due e tre. Et voilà. Esparita? Esparita? Je pense, oui. Pense d'ici. Non, non pensare. Il n'y a plus la raine. Non, c'est plus le ragno. Tu ne dois pas penser. La réponse est, sì. Tu ne dois pas penser. La réponse est, oui. Bene. Si une créatrice est différente que dans la dimension exclusivamente physique. Donc, pense à ce que tu veux créer. C'est, excuse-moi. Donc, dis à ce que tu veux créer. Si tu es une créatrice, c'est différent par la dimension physique. Du coup, tu peux dire tout ce que tu veux créer. Mais si tu penses créando des dubbi, crée des dubbi, appunto. Mais si tu penses que tu crées des doutes, tu vas créer des doutes. Mais l'apparerai durant la sessione. Mais pendant la sessione, tu vas l'apprendre mieux. Alors, maintenant que tu n'as plus peur, tu peux voir tout ce qui se passe de manière neutre. Maintenant que tu as plus peur, tu peux voir tout ce qui se passe dans une façon plus neutre. Dis-moi si pendant le viol il y a la pénétration. Oui. Ok. Dis-moi qui ti sta violentando. Et dis-moi c'est qui parmi eux qui est en train de te violer. Un des gars de trentaine d'années prend les cheveux raseux. Uno des ragazzi d'une trentaine d'anni alto, capelli rasati. Quanti sono? Ils sont combien? Trois et lui. Ça fait quatre pour moi. Tre plus lui, il gangster, sono quattro. Et te violentano tutti? Tout le monde il te violent? Non parce qu'il y a ma copine aussi. Non, parce qu'il y a ma copine aussi. Ok. Però tutti violentano voi due? Mais tout le monde vous viole? Moi je ne vois que un. Io vedo soltanto uno. Solo uno qui viole entrambe? Il n'y a que un qui viole les deux. Non. Moi j'ai un qui me viole et ma copine elle en a un autre et il lui oblige aussi à faire d'autres choses. Le deuxième oblige à faire d'autres choses avec la bouche. A me ne vedo soltanto uno. La mia compagna ne a un autre qui la obbliga à faire anche altre choses avec la bouche. Ok. Adesso voglio que tu tocchi questo che ti sta violentando e nel momento in cui lo tocchi la tua parte subliminale identifica decodifica il codice DNA e tu vedi la sua forme originale. Maintenant je veux que tu touches la personne qui est en train de te violer et pendant que tu la touches ta partie subliminale va identifier son code ADN. Ah, il n'y a que le tocchi. A mon troie tu le touches. Un, deux, trois. Cosa, cosa vedi? Qu'est-ce que tu vois? Le visage se transforme, il devient plus ridé, il change de couleur, les yeux deviennent ronds et il change de couleur. Gli occhi diventano rotondi et cambiano de colore. Beh, dimmi comment cambia tutto il corpo. Tu dois me dire comment va changer tout son corps? plus ou moins, eh? Tu vois comme un reptile. Vedo comme un reptile. Che strano, non chissà comme mai. C'est bizarre, chissà pourquoi. Che ci fa un reptile lì? Qu'est-ce qui fait un reptile là? E plus ou moins questo reptile a quale reptile terrestre assomiglia di più? E plus ou moins ce reptile a quale être reptile terrestre ça ressemble plus? Una lucertola. Il microfono l'ha pris des muscles il est devenu très épais au niveau des épaules très fortes. ha cominciato a avere dei muscoli e è diventato molto spesso a livello delle spalle molto forte e ha degli artigli. Bene. E' tutto fumo e niente rosto. Non c'è che debole non c'è debole non c'è forte Lui c'è quelqu'un de faible c'è pas fort Se tu pensi che è forte soltanto perché lui ti fa mostrare i suoi muscoli tu gli cedi il tuo potere consegnandogli forza perché è il tuo spazio. Se tu pensi qu'il è fort parce que tu vois qu'il è fort tu lui doni juste ton pouvoir mais c'est toi che tu crée sa force Tu sais le papillon qui ont les ailes très grandes énormes et là dans leurs ailes il y a deux points qui ressemblent a des yeux C'est la même chose Quindi non creare paura e non consegnargli potere attraverso le tue credenze indotte c'est tu dois pas créer de la peur et tu dois pas lui donner ton pouvoir parmi des croyances dis-moi à quel reptile terrestre asume dis-moi à quel reptile terrestre ressemble le plus un dragon de komodo il mio preferito c'est mon préféré tu dois dire à ta copine de faire la même chose et dis-moi qu'est-ce tu vois elle a très peur c'est difficile elle est prostrata elle est prostrée alors fais quelque chose pour la témica transmettile telepaticamente toutes les informations que tu as acquisites durant cette session et donc fais en sorte qu'elle bouteille la paura et que il identifiche ce être tu peux transmettre toutes les informations que tu viens de recevoir pendant cette session comme ça elle peut jeter sa peur peut toucher la personne et identifier la personne dimmi que succede et dimmo qu'est qui se passe vedo que si a alzata et alzato gli occhi et lo sta guardando vedo que des occhi blu chiari belli non visualizzo il suo agressore a mon trois tu le visualise un due tre ok il a une petite barbe une chemise blanche beau gosse a una barba una camicia bianca un ragazzo ok va bene dimmi se questo drago de comodo di comodo sta lasciando all'interno del tuo corpo qualcosa durante l'atto sessuale dis-moi sur le dragon de comodo qui tu viens de voir pendant l'acte sexuel a laissé quelque chose à l'intérieur de ton corps j'ai plus j'ai l'impression tu as l'impression non dis-moi dis-moi solo quello que vedi c'est l'impression tu dois pas avoir l'impression tu dois juste me dire ce que tu vois il y avait l'homme sur moi mais le dragon il était au dessus comme subtilement au dessus vedo l'uomo su di me ma il dragone era un ambiente sottile come sopra di noi guarda giusto per informazione adesso non non è importante se il rettiloide sta all'interno di un essere umano fisico reale o disincarnato o altro per adesso non ci interessa juste pour information ce n'est pas important ou nécessaire que le reptilien l'être soit all'interior des incarnés humain pour le moment ça n'est 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 E anche perché tante informazioni utili e interessanti ci portano anche a distrarci dall'obiettivo finale e non abbiamo molto tempo per risolvere. Mesmo perché molte informazioni che possono essere interessanti possono distrarci dal vero problema e farci perdere il tempo. Io lo so che la gente che guarda i video su internet è curiosa, vuole sapere, però la sessione è pagata tu e tu hai il problema, lo devi risolvere tu. Io so che c'è chi guarda i video e è curioso e vuole sapere altre cose, ma la sessione è tu che l'ai pagata e bisogna risolvere il tuo problema. Voglio vedere il primo che commenta dicendo Carlo, dovevi investigare di più. Io voglio vedere chi è il primo che va dire Carlo, che devi investigare di più. Poi cosa c'è l'investigare? Che c'è un humanoide e un retiloide insieme che collaborano oppure no, è soltanto un retiloide oppure no, oppure non lo so, qualcosa altro, non importa. E poi, qu'è ciò che c'è da inquietare? Se c'è un retiloide o plusieurs retiloide che collabore? Non è necessario e importante. Invece, questo sì che è interessante. Dimmi se ti ha lasciato qualcosa all'interno del corpo. E ciò è interessante. Tu dois me dire se lui ti ha lasciato qualcosa all'interno di te. Non mi viene niente. A mio tre, se c'è qualcosa, ti ha lasciato qualcosa, lo vedi? Se non c'è niente, non lo vedi. A mio tre, se lui ha lasciato qualcosa all'interno di te, tu lo vedi? S'il n'y a rien, tu ne vois rien. Un, due, tre. E' finito l'atto sessuale. Dimmi se hai lasciato qualcosa. Le viol sexuel si è terminé. Dimmi se l'ha lasciato qualcosa. Non pensate? No, ma... No. Qui? Io vedo una piccola energia blu. No, ma vedo una piccola energia blu. Ok. Vedi che succede se pensi? Dici no, però... Tutto questo è raziocinio. Lo dobbiamo eliminare. Razionalizzare. O razionalizzare. Tu vois? Tu commences a réfléchir, tu dici no, ma... Tu sai... Tu utilises la parte irrationale. Quindi... Energia blu? Perfetto. La risposta è sì. Qualcosa di blu. Il y a l'energia blu? Blu? C'est parfait. La réponse è oui. Il y a quelque chose de bleu. E adesso, vai avanti nel tempo, anche quando... Anche oltre il sogno, e dimmi se questa cosa blu all'interno del tuo corpo rimane lì, si transforma, va via, non lo so. Dimmi che succede. Maintenant, avance dans le temps. E regarde cette énergie blu. Dans le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là, il va se transformer, il va changer de couleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un'energia corrispondante. Il cherche un'energia che le corresponde. E quindi, vai avanti, vediamo che succede. E avance, on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Ça va dans mes pieds. Va nei miei piedi. E poi? E après? Anzi, facciamo una cosa. Je suis plus lourde. Je suis plus lourde. Sono più pesante e ho mal alle gambe. On va fare una cosa. Adesso, con queste informazioni che hai acquisito, vieni al momento presente da dove ti sto parlando. Maintenant, avec cette nouvelle informazione che tu viens de prendre, tu viens au moment présent dans lequel je te parlo. Benissimo. Dimmi se questa cosa è ancora nel tuo corpo. E dis-moi si cette chose bleue est encore à l'intérieur de ton corps. Je ne vois pas bleu, je vois gris. Je vois beaucoup de poids dans mes jambes comme pour m'empêcher d'avancer. Non c'est bleu, c'est gris et je vois beaucoup de poids dans mes jambes comme pour m'empêcher d'avancer. Ok. Dimmi ce qui t'arrive à l'intérieur de ton corps. Qui veut impedir toi d'avancer? Dis-moi juste ce qui t'arrive à l'esprit. C'est qui qui veut t'empêcher d'avancer? Le même dragonne. Le même dragonne du premier. Quelle de Komodo? Le dragonne du Komodo. Ok. Pourquoi il ne veut pas te faire avancer? Pourquoi il ne veut pas te faire avancer? Pour pouvoir m'attraper et mettre en route sa volonté, ses projets, m'empêcher d'avancer et d'aller où moi je veux. Pour m'améliorer d'avancer et mettre en piazza i suoi progetti. Et quels progetts il y a? Et quels sont ses projets? Anja, aspetta, aspetta, sette. Voy a divertir un peu. Attends. On va s'amuser un peu. Proviamo il tuo canal telepathic. On va essayer ton canal telepathic. Mi fai parlare con il drago di Komodo? Me laissi-tu parler avec le dragon de Komodo? Lassame con lui. Laisse-moi avec lui. Oui. Compa. Com'est-ce que tu t'appelles? Tu, tu? Tu? come te chiami commenta per tu è questo rock rock ripetilo ripeto rock tu sei la vergogna del rock c'è la honte di rock rock che cos'è quella cosa nel corpo di un lò qu'est ce che c'è cette chose dans le cor a l'interior du cor d'un l'or un peso si si lo vedo che un peso però dimmi che cos'è nei dettagli a cosa serve oui oui je vois qui c'è un po' a me di moi qu'est ce qui c'est dans le dettagli a cosa serve meno si si muove più posso a più posso trattarla come una bambola si 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 prenderla in un bambola lascia mi con un lò lascia mi con un lò lascia mi con un lò deconnect un lò deconnect ok un lò eso dime una cosa dime quello che ti arrivi a mente senza pensare maintenant dis-moi ce qui t'arrive ce qui arriva a ton esprit sans réfléchir quale è la causa esoterica dei tuoi problemi ortopedici quelle è la causa esoterica dei tuoi problemi ortopedici lo che l'avancement frené l'avanzare frenato certo ovvio perché il corpo fisico somatizza tutto quello che non è fisico tutti i problemi fisici delle malattie non sono altro che uno specchio di quello che c'è dietro il fisico tutto ciò che c'è problemi fisici c'è giusto il miroir di ciò che è nel non fisico qual è la causa esoterica del tuo tic, chiamiamolo così che ti fa strappare i capelli e le sopracciglia quale è la causa esoterica del tuo tic che fa in sorte che tu ti arracchi i chevei e sorsi bisogno di leggerezza bisogno di leggerezza ok tutto collegato e c'è qualche relazione con quella mummia che hai visto nel museo? qual è la causa esoterica del tuo tic, chiamolo? qual è la causa esoterica del tuo tic, chiamolo? la frustrazione di non aver fatto quello che avevo previsto di fare nella mia vita ovvio, se non avanzi non puoi farlo la causa esoterica dell'anestesia emozionale la causa esoterica dell'anestesia emozionale la protezione data dalla delusione delle persone la mancanza di energia la mancanza di energia una conseguenza che viene... ho perso la parola perché no? intensissima vita sentimentale t'avi sentimentale? bueno, certo, sei anestesizzata emozionalmente ok, perfetto adesso alla fine tutto si riduce a una causa esoterica che è l'interferente t'avi, tu vaso riduire a un'cause esoterica che è l'interferenza e quindi adesso ci occupiamo dell'interferente Ok, adesso facciamo una cosa Adesso facciamo lavorare anche un po' Elettra Però a Elettra Faccio canalizzare la tua parte subliminale Sì, così ti faccio sentire più come si sente un interferente Quando non gli arriva più il potere Adesso chiamare questo interferente e ordine di metterci davanti a te con i suoi collaboratori Bene, quando gli metti davanti a te con i suoi collaboratori Bene, quando gli vedi davanti a te vimmelo Quando tu le vois face a te, tu puoi me lo dire? Quanti collaboratori vedi? Combien di collaboratori vedi? Non sono sicura Ci sono ancora nel buio? Beh, quanti sono? Di me, gli hanno a combien? Vedo il primo, un a sinistra, due a destra e può essere un altro ma mi sembra nel buio Ok, che forme hanno? E quelle forme hanno? C'è più come dei lézard con la crete più lisse Com'è delle ricerche senza crete più lisse Ok, adesso io conto da uno a tre Al mio tre, tu canalisis il drago di Comodo e le tre canalisis il drago di Comodo E le tre canalisis il drago di Comodo e le tre canalisis il drago di Comodo Tu vuoi farmi arrabbiare? Sinceramente non me ne frega niente se ti arrabbio o meno Non mi interessa di tutto se ti metti in colore o non Però visto che me l'hai chiesto, sì, piacerebbe farti arrabbiare, sì Ma vu che tu vienes me lo domandé, sì, j'aimerais te mettere in colore, sì Allora, farlo arrabbiare Allora, tu dois lo mettere in colore Com'è? Com'è? Basta semplicemente volerlo E soffi juste de le vouloir Al mio tre, lo fai arrabbiare A mon tre, tu le mets in colore Gli ordini di essere arrabbiato Tu lui doi lui ordonné di se mettere in colore Un, due, tre E questa sarebbe tutta la tua rabbia? E questa è tutta la tua colore? Non arriverà a avere potere su di me, sono io che ho il potere Quindi non ti arrabbi Aspetta, aspetta, qua c'è qualcosa che non lo aspetta C'è della par Ci sono due, ma ne... E funziona Tu, muto Tè, tu Chi ti ha interrogato a te? C'è chi che t'ha demandé? Oh, non mi fai incazzare Non mi fai ennerver Cosa ridi? Qu'est-ce che tu rigoles? Rivi Per fare cosa? Molto Tè, toi Quali domande le faccio io? C'è io che poso la question E allora Un mostro lo puoi vedere in due modi O attraverso la paura Il vuoi ridicule Da ridere Che fa rigoler Come lo vuoi vedere? Comment vuoi-tu le voir? Oh, non vuoi più le voir, il cuore Non vuoi più vederlo, è disgustoso Lo vuoi vedere ridicolo o orribile? Vuoi-tu le voir ridicule o orribile? Che te le vuoi che sia ridicolo Se devo vederlo, che sia ridicolo Perfetto, e allora devi eliminare la paura Parfait, allora il faut che tu elimini la paura Prendila e butta la via Prendila e jettila Voilà, parfait Hai ancora paura? Hai ancora paura? Un po' Un po' Hai, butta via questo po' Jette Même questo Petit po' Fatto? C'est fait? Oui, perfetto E adesso Crea Forza E sicurezza E maintenant Tu dois creare La forza E della sûreté Ok E adesso come vedi questo monstro? E maintenant Comment vois-tu Ce monstro? E' giusto brutto E' giusto brutto E' solo brutto E' giusto brutto E' giusto brutto è venuto eccoci qua allora siamo a cuccia e a cuccia è piuttosto divertente adesso fai arrabbiare questo drago di comodo no voglio vedere che grida perché è arrabbiato adesso hai ragione per innervosirti ai rock contento e tu rock non era previsto questo aumenta l'intensità ma allora tu peux aumenter l'intensità lo vedo troppo tranquillo c'è troppo tranquille ancora più forte e nella sua gabbia più forte più fort più rabbia più colère più rabbia più scolere più scolere più scolere più scolere più scolere irresistibile rabbia irresistibile colere io credo che non respiri più e che tu rock non sei buono neanche per arrabbiarti tu rock t'es même pas bien pour te mettre en colère hai capito non capisci tu ne comprends pas non si sente quando parla che dici rock qu'est-ce t'ha dit rock me ne occuperò non ho capito bene ehi che fai menaci me ne occuperò con i miei ragazzi qu'est-ce tu fai tu menaces ok allora non la lascerò così tagliagli la coda allora coupe lui la queue coupe tagliata tagliagli le zampe posteriori coupe lui ses pattes derrière sempre anteriori sempre anteriori le patte davanti sì perfetto sei contento allora sì allora scusami rock rock es-tu heureux rock? tu ne peux plus rien faire non posso più fare niente no no ancora c'è una cosa che deve essere tagliata il y a ancora quelque chose che on peut couper ah già è complicato violentare così senza zamp è vero ah c'est déjà compliqué violer come ça sans le patte prova a violentare così vediamo se riesci essaye di violer come ça on va voir se tu y arrives avec mon esprit je peux faire quand même des choses con le mio pensiero posso fare ancora delle cose no tagliagli tagliagli la quinta zampa tu peux lui coupe la cinquème patte c'est fait fatto benissimo adesso puoi violentare chi ti pare maintenant tu peux violer tout ce que tu veux ok adesso déconnecte l'etra et déconnecte un lor ok comment va l'etra bien alors bien ok diciamo comment lo senti quand lo canalisavi comment tu le ressentais pendant la canalisation voyais une énergie rouge au niveau du thorax vedevo une énergie rossa au niveau du thorax et quand on lui disait de se mettre en colère qu'est-ce que tu ressentais ça s'étegnait de plus en plus en fait si spegner va de plus in plus va bien et tant que non et tant que non de faire le support non mais tu ne dois pas faire de support va bien c'est bien comme ça alors adesso cominciamo à lavorare maintenant on commence à travailler comment vedi questo drago di comodo adesso comment vois-tu le dragon de comodo mentre là comme un petit boudin par terre qui s'agita comme un piccolo salame per terra un salsiciotto per terra qui s'agita et ses collaboratori che fanno et ses collaborateurs qu'est-ce qu'ils font bah ils le regardent mais ils auront envie de partir mais c'est le chef alors ils n'osent pas partir le guardano avrebbero voglia d'andare via mais il leur capo quindi non osano andare via ordina ai suoi collaboratori di violentare il loro capo tu dois ordonner à ses collaborataires de violer leur chef ils me regardent surpris ils guardent sorpresi et qu'est-ce 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 il y en a un qui il commence à essayer ce n'est uno che comincia a provare mais c'est pas pratique ma non è molto pratique per terra e gli altri che fanno et les autres qu'est-ce qu'ils font ils regardent ils attendent leur tour guardano e aspettano il loro turno no 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 niente turno uno dietro l'altro pas tour un derrière l'autre facciamo un trenino on va faire un petit train et bien oui qui riga pourquoi tu rigoles alors ? elle ne s'entra pas la locomotive elle ne ressemble à rien la locomotive non sembra niente ok quando hanno quando questa locomotiva a vapore sai che stantuffa tu tu ecco finisce finisce l'energia di me canset e l'op come tiff a vapeur comienza termini c'è energia e io credo che qui non è proprio messia che teniamo che mi dice rock attraverso l'etra on va voir qu'est ce che non vu dire rock parmi e letra la jamie con rocette les ma ve croque letra sei riuscito a venire o faccio continuare t'arrivé a gioire o j'ai continuo non ho capito non ho capito ok va bene li faccio continuare dai allora je l'ai fatto continuare dai così ti diverti come sa tu t'amuses un po' di più un po' più il premio per essere stato obbediente c'è il premio per essere obbligato sta avvenendo penso potete che il è arrivato all'orgasso quando hai finito di venire alzati quando hai arrivato all'orgasso tu puoi te lever ha finito l'orgasso perfetto hai visto il tuo premio tu hai visto c'è ton premio deconete il tra il tra che è successo? il tra qu'è ci è passato? il si è tutto tordu in lui-même come se il si è... ah non ho capito il si è eccrasato su lui-même si è contratto si è perso su se stesso si è chato su se stesso ok tu cosa vedi allora? e tu allora che vuoi? la scena è fissata non c'è azione e ho freddo l'immagine è fissata fissa non c'è azione e ho freddo e tremo tu adesso disconnetti da tutti loro non tremare più non sentire freddo ora tu puoi deconnetti da tutti tu devi più tremble e più sentire freddo bene stai meglio? ça va meglio? non c'è più non c'è più ok allora ci siamo divertiti un po' l'abbiamo preso un po' così a scherzare non per prendere la cosa a livello superficiale ovviamente ma per farti praticare il tuo potere e comprendere che sei l'unico onnipotente essere nel tuo spazio on s'est amusato un po' on a giochi un po' ma per te far comprare che toi tu sei la sola a avere il potere all'interno del tuo spazio ok adesso tu li distruggerai adesso tu vas li distruggerai quando li distruggerai distruggerai tutto l'energia quello che è successo nel passato quello che dovrebbe succedere nel futuro tutto salti su una linea temporale parallela quando li distruggerai tu vas distruggerai tutto l'energia ce che è arrivato nel passato ce che va arrivare nel futuro tutto tu vas saltare su un'altra linea parallele e distruggere significa togliergli quel permesso che gli hai dato per stare nel tuo spazio e quindi non possono più starci non avendolo più e spariscono se li distrugge detruire ça significa che tu lui enlèvi la permission di restare in tuo spazio tu ne puoi più restare in tuo spazio se tu li distruggerai pronta per distruggerli? e tu prèti per le distrugger? j'ai un ressenti un sentimento cioè come come se ci fosse qualcosa di nascosto che resta sempre nel nero dall'inizio ordinagli di uscire e mostrarsi tu dois lui ordonné di sortir e se montrè chi è? c'è chi? c'è un un umano un umano ma più grande si un umano ma più grande il DNA è umano? il DNA è umano? l'ADN è umano? viene da un altro pianeta e cosa ci fa con te? E qu'est-ce qu'il fa avec toi? Il surveillava il dragone. Collaborava, cioè in qualche maniera legato al dragone. C'est connecté al dragon in qualche maniera? Je ne sais pas si je suis bien libre, totalmente. Non, non, non pensare a questo. Dimmi solo se c'è un legame con il drago. Tu ne dois pas penser a ça. Tu dois juste me dire s'il y a un lien avec le dragon. Le dragon? Je crois que c'est bon. Il drago, il comodo. Le dragon de comodo. Lui, il est réduit à néant, déjà. Il dragon est ridotto nel nulla. Eh sì, vabbè, facciamo una cosa. Tu distruggis tutto, che te ne frega. On va faire una cosa. Tu dois détruire tutto. Qu'est-ce che ti interessa? Metti questo essere davanti al drago. Anzi, no. Mettilo in fila. Tu peux mettre cette dernière être dans le petit train. Così dà un po' di energia al trenino che si stava fermando. Come ça va donner un petit peu d'energie au petit train qui si était en train de se terminer. Quelle forme? Quelle forme il a? L'être. L'essere. Sì, certo. Un humain avec des grands cheveux et deux mètres. Un humain avec des grands cheveux et plus ou moins deux mètres d'altezza. Ah, vabbè, sì. L'artoriano, pleiadiano, biondo, ariano, avec les yeux azzurri, bello et robuste. Vabbè, dai. C'est, ok, c'est un pleiadien ou le grand, beau, avec les yeux bleus. Ah, c'est sûr qu'il est plus beau que les autres. Ah, c'est sûr qu'il est plus beau que les autres. Sì, sì, si. Si tu veux, tu peux te faire violer de lui. Je veux rien, merci. Non, grazie. Ok, dai, distruggiamo tutto e sarai libera, finalmente, per vivre la tua vita senza interferences. On va tout détruire et tu vas être libre, finalement, pour vivre ta vie sans aucune interferences. Venga, al mio 3, li distruggi tutti. A mon 3, tu détruis tous. Un, deux, trois. Il l'onso. Che è successo, alors? Oh, ho incendiato tutto. Cosa vedi, alors? Que vois-tu, alors? Un espace vide. Un espace vuoto. Un espace vuoto, perfetto. Come ti senti? E comment va-tu? Encore froid, mais je fais bien. Par contre, j'aimerais que cet espace soit plus lumineux, il reste encore un peu gris. Bien, c'est encore un peu froid, mais j'aimerais que cet espace soit plus lumineux, il reste gris et scuro. Bien, c'est une créatrice, donc illumina-la. Très bien, tu es une créatrice, tu peux l'illuminer. Un, deux, trois. Eh, trop de lumière, maintenant. Eh, basse, basse un peu, basse un peu. Tu peux baisser un peu de lumière. Merci, très bien, così si fa. Ok, et adesso, comment ti senti, alors? Et maintenant, comment vas-tu, alors? Je ressens... Paisible. Me sento più tranquilla. Observe il tuo futuro e dimmi si avance in tutti i sensi. Observe ton futur e dis-moi si tu peux avancer dans tous les domaines. Je me sens plus tranquille et du coup plus sûre de moi, avec moins d'énergie à convaincre, plus naturelle. Je me sens plus tranquilla, donc plus sûre de moi-même, avec besoin d'utiliser moins d'énergie pour autoconvincere. Tu comme la veux-tu être? Et toi, les trois, comment la vois-tu? Elle prend de la stabilité, même son image, elle est stable, je la vois stable. Acquisisce stabilité, anche la sua image ne la vedo plus stable. La vedi strapparsi i capelli? La vois-tu se déchirer les cheveux? Non, 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 pas du tout. Non? Non, per niente. Néanque davanti al suo prossimo boyfriend? Non, même pas en face à son prochain boyfriend? Non. Non? Bene. Ok, quindi amore, mais sans pazzes. Du coup, il y a de l'amour, mais sans être fou. Meglio. C'est mieux. Niente de problème. Pas de problème. Bene, basta. Bando les sciences, chiudiamo la sessione. Deconnecte tu et de tous. Perfetto. Adesso il corpo comincia a risveillarsi. Parfait. Maintenant votre corps commence à se réveiller. Si fa plus leggero. Il se fait toujours plus léger. Più forte. Plus fort. Et tu sei felice. Et tu es heureuse. Apre gli occhi. Ouvre les yeux. Fermi les yeux et re-ouvre les yeux parce que tu l'avais déjà ouvert. Comment tu sentis alors? Comment vas-tu alors? J'ai froid. Alfred. Ma va belle. Mais ça va. Finalement, c'est sans surprise. C'est bizarre que ça, mais ça correspond au ressenti qu'il y avait le poids, l'empêchement d'aller, l'état de sensation. Si c'est ça qui provoque ça, je suis contente qu'il soit parti. Sans tropes surpreses, mais ça correspondait effectivement au mon sens, le peso, qui ne me laisse pas la force d'avancer. Si c'est tout de suite, c'est mieux. Je ne sais pas ce qu'il fait. Merci à toi. Merci à toi. Il est parti et revenu, lui. Ok. Perfait. Et alors ? Tu veux que si publie la sessione ? Est-ce que tu veux publier la session ? On va faire rire du monde avec le petit train, non ? Faire mourir les personnes avec le train, non ? C'est clair, on doit amener les frequences, c'est clair, non ? C'est clair, il faut qu'on monte les frequences. D'accord, allons-y. Si, va bien. Perfait. Alors, famille de la registration. Je ferme le registrement. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada